Questi punti interrogativi, te non trovi la risposta di questi punti interrogativi. A me, per esempio, mi ha tormentato questo grande punto interrogativo tutta la vita, perché io? E questo punto interrogativo ti tormenta, non trovi la risposta. E grazie a Dio, grazie a Dio da dieci anni a questa parte, io sono l'uomo più felice del mondo, perché ho trovato la risposta di questo punto interrogativo che mi ha tormentato tutta la vita. Sono loro, sono loro perché... Ho capito che non è stato un colpo di fortuna, è stata una scelta. Padre Eterno ha voluto che io rimanesse in vita e grazie a Dio, grazie a Dio, oggi ho la risposta di questo grande punto interrogativo e questo mi rende felice e mi sono giurato che continuerò a farlo fin quando Dio mi darà la forza di farlo. Grazie, Samimodiano. Grazie.